Nessun risarcimento ai genitori di Giuliano De Seta, lo studente morto in incidente durante uno stage. L'annuncio del ministro Valditara, alternanza scuola-lavoro, va rivista. Il servizio è di Lucia Ascione. Una vita interrotta a 18 anni come quella di Giuliano De Seta, finita sotto una tonnellata di acciaio nell'azienda in cui era stagista, non merita di essere risarcita, perché Giuliano non svolgeva un lavoro retribuito e non contribuiva al sostegno del reddito familiare. Era solo un figlio, amatissimo, sostenuto dai sacrifici di mamma e papà, che voleva presto rendersi autonomo e che alternava ore di fabbrica ai banchi di scuola. Per quelli come lui, l'INAIL, sulla base delle norme vigenti, non riconosce alcun risarcimento. Una forte e ulteriore amarezza per i genitori di Giuliano, che pure non hanno mai chiesto alcuna indennità, ma che temono che la decisione dell'INAIL possa in qualche modo rallentare il difficile percorso per l'accertamento delle responsabilità dell'incidente dello scorso 16 settembre, in cui ha perso la vita il giovane. Dal governo arriva la reazione dei ministri del lavoro e dell'istruzione, Maria Elvira Calderone e Giuseppe Valditara. Vanno tutelati gli studenti che fanno formazione professionale nei tempi scolastici e per questo va cambiata immediatamente la normativa attuale sugli indennizi per chi perde la vita durante l'alternanza scuola-lavoro. Per il prossimo 12 gennaio è stato già previsto un tavolo tecnico sulla sicurezza, attorno al quale siederanno oltre ai ministeri coinvolti anche parti sociali, INAIL e Ispettorato del Lavoro.